Per motivi ovviamente di tempo parlerò solamente delle innovazioni in tema di AMD neovascolare. A mio parere tre sono i punti salienti che sono emersi in questi ultimi tempi nel campo di questa patologia. Da una parte, come abbiamo sentito anche dal professor Menchini, la consacrazione dell'utilità clinica, della conversione o della riconversione ad altro anti-VEGF. Secondo, le prospettive aperte dagli studi con anti-PDGF. Terzo, l'anti-VEGF prossimo avventuro, il Combercept. Con l'avvento del Combercept tutti siamo diventati degli switcher. Se noi iniziamo il trattamento con un anti-VEGF, osserviamo che all'inizio il paziente nostro risponde, poi vediamo che a un certo punto comincia a rispondere meno. Ecco che allora noi facciamo lo switch, cioè facciamo la conversione ad un altro anti-VEGF. Però può succedere che quindi questo paziente ci risponde, ci risponde per qualche trattamento. Dopo qualche trattamento vediamo che il paziente di nuovo comincia a non rispondere, come con il primo anti-VEGF. Però in questo caso, ritornando al primo anti-VEGF che abbiamo impiegato, quindi facendo una riconversione, vediamo che possiamo ottenere uno stesso risultato positivo. Qui vediamo appunto un esempio, un paziente che aveva già eseguito 12 trattamenti endovitriali in 18 mesi. Vediamo che 40 giorni dopo l'ultimo Ranibizumab, vedete appunto la mancanza di una risposta. Risposta che invece abbiamo osservato subito a distanza di un mese con la Flibercept. Però vedete che dopo 6 a Flibercept, a distanza di due mesi, di nuovo il paziente presentava appunto una mancanza, diciamo, di risposta. E ritornando alla Ranibizumab iniziale, già dopo un mese avete visto la normalizzazione del tracciato OCT. Molte volte potete vedere, specialmente in letteratura, che i risultati delle conversioni possono essere non soddisfacenti dal punto di vista visivo. Però tenete presente che tutti i lavori della letteratura, tranne appunto quello citato per Somenchini, parlano di casi che hanno alle spalle 25, 24, 19 trattamenti con anti-VEGF. Ed è chiaro che in quella situazione i fotorecettori sono già partiti. E pertanto non possiamo in quei casi ovviamente aspettarci un miglioramento della funzione visiva. Però, diciamo, la stabilizzazione che otteniamo all'OCT in questi casi ovviamente è già un risultato positivo. Se noi, appunto, osserviamo nel nostro paziente un comportamento come quello che vi ho presentato, vuol dire che quel paziente aveva presentato un attacchi filassi verso quel determinato anti-VEGF. Attacchi filassi che, sapete, la retina, come ogni altro tessuto del nostro corpo, può presentare. Se invece, se invece, scusate, mi puoi ridare per favore? Se invece vediamo che, grazie, il paziente non presenta, la terza, la quarta, no, avanti, avanti. Se invece il paziente, vediamo, non presenta questo comportamento, dobbiamo pensare, non che il paziente abbia sviluppato un attacchi filassi, ma dobbiamo pensare che ci siano altre cause che siano alla base di questa, diciamo, non risposta. Altre cause, la causa più frequente, può essere la maturazione della neovascularizzazione. Del resto, voi sapete che una neovascularizzazione, se giunge alla vostra osservazione, con il vaso più maturo, più maturo è, il neovaso meno risponde al trattamento anti-VEGF. Il neovaso è sensibile all'anti-VEGF e soprattutto nelle prime fasi, perché è nelle prime fasi dello sviluppo della neovascularizzazione che il VEGF è estremamente importante. Man mano che il neovaso matura, ecco che il neovaso comincia ad acquistare una sua struttura. Soprattutto, diciamo, si carica di pericita. E il pericita ha un ruolo importantissimo, diciamo, nella struttura del neovaso. Tenete presente che la rete nel tessuto che è presente il maggior numero di pericite nel nostro corpo. Oltre a regolarne le emodinamiche, vi ho dicendo, soprattutto per quanto riguarda il neovaso, costituisce una specie di scudo, come vedete in questa immagine, proprio all'azione dell'anti-VEGF e perciò lo rende resistente all'anti-VEGF. Il pericita è stimolato dal PDGF, che sarebbe il fattore di crescita piastrinico, da non confondere col PLGF, che invece è un fattore angiogenico, pro-angiogenico, fattore di crescita placentare. Ecco che quindi il razionale del trattamento anti-PDGF, in quanto bloccando appunto il fattore di crescita piastrinico, noi blocchiamo, inibiamo la crescita dei periciti. E questo fa sì che il nostro neovaso aumenti la sensibilità all'anti-VEGF e soprattutto, importantissimo, tenete presente che inibisce la fibrosi e perché molti risultati, come abbiamo visto anche, diciamo, nei quadri presentati da Menchini, che non sono stati soddisfacenti dal punto di vista visivo, sono quei casi in cui hanno già presentato un'abbondante fibrosi. Sono tre gli anti-VEGF, praticamente, diciamo, in corso di studio. Quello più avanti è sicuramente il fovista, forse già alcuni di voi hanno partecipato anche al trial clinico. Il fovista è quello della Optotech, diciamo, più avanti nello studio, fase 3 avanzata in più centri, è costituito da un aptamero pegilato che inibisce elettivamente il PDGF beta. Ha quattro isoforme e inibisce il beta. Speriamo che, diciamo, l'unica cosa un po' sospetta è il discorso dell'aptamero pegilato, che ci ricorda un po' il macogen, che era un altro aptamero pegilato. E speriamo che non faccia la stessa fine. È usato in combinazione con il ranibizumab, a distanza di una settimana solitamente, e sono in corso di studi adesso, con, appunto, combinato non soltanto con il ranibizumab, ma anche con il bevacizumab e la flibercept. Molto interessante, si presenta l'anti-PDGF del Regeneron, anche perché questo agisce con meccanismo anticorpale, anticorpale, antirecettore del PDGF beta. E soprattutto è, diciamo, coformulato con a flibercept nella stessa siringa. E questo, diciamo, è molto, molto comodo anche per la somministrazione. Mentre sicuramente più indietro è l'anti-PDGF della Santen. Qui vediamo, appunto, i primi risultati degli studi, diciamo, esauritico, appunto, portati a termine negli Stati Uniti. Vedete che il fovista, a dose 1.5, dava dei risultati sull'acuità visiva, nettamente superiore al fovista 0.3, ma soprattutto, ecco, e questo, potete vedere la differenza, rispetto, appunto, a ranibizumab in monoterapia. E' estremamente importante, e questo direi è un dato ancora più interessante di quello che vi ho sposto prima. Voi vedete a sinistra, diciamo, la presenza già di deposito a livello sottoretinico, il precursore della fibrosi, e vedete come, appunto, il trattamento con l'anti-PDGF permette, appunto, di fare un cleaning dello spazio sottoretinico e vedete come, in effetti, nell'immagine, a vostra destra, il deposito sia del tutto, appunto, scomparso. Questa, però, è la terapia combinata non ancora possibile avere nella pratica clinica. Oggi, di fronte ai casi refrattari, specialmente se si tratta di polipoidi, e tenete presente di far sempre l'indocianina nei casi che sono refrattari, specialmente quelli a binizio, perché si tratta, allora, sempre di polipoidi, possiamo, appunto, diciamo, ricorrere la terapia combinata a quella classica, che può essere duplice o triplice, abbinando la PDT per l'effetto anti-angioclusivo, ovviamente l'anti-VEGF, e oggi, finalmente, abbiamo libertà, ampia disminuità di steroidi, oltre al triamcinolone, ritornato di nuovo d'uso, anche il desamettazone, non più quello pronto, che era troppo, diciamo, rapido come azione, ma il desamettazone a lento rilascio. Ricordo che gli steroidi hanno, certo, l'azione anti-inflammatorica che ben conosciamo, anti-sudativa, ma hanno anche un effetto anti-angiogenico. Qui siamo nel 2004, questo lo presentai alla SOI del 2004, quando si trattava, è un caso di RAP all'esordio, quando si trattava la RAP con la duplice, triamcinolone più trattamento fotodinamico o laser termico, a secondo della sede della RAP, che era possibile allora, perché voi sapete che la RAP all'inizio parte sempre in sede non sub-foveale, sempre extra-foveale, e si faceva appunto precedere al trattamento fotodinamico o laser termico nel sede di triamcinolone. Qui vedete che a distanza di sette giorni non era raro osservare che quella RAP all'inizio, e diciamo, vedete appunto il prima e il dopo, era scomparsa dopo la semplice inizione di triamcinolone. Azione antissudativa potente, qui vedete un caso di stacco da polipoide, e in questo caso siamo già nel 2008, siamo in epoca anti-VEGF, prima eravamo invece nel 2004 in epoca pre-anti-VEGF, il paziente aveva avuto un ictus qualche mese prima, era monocolo, quindi non potevamo certamente adoperare un anti-VEGF, tu hai operato i triamcinolone e vedete a distanza di due mesi il completo appiattimento del distacco. Ricordo, e questo è molto importante e non mi stancherò di ripeterlo, come a livello retinico, per avere un effetto a livello retinico, per saturare i recettori retinici con il triamcinolone, non sono necessari i 4.000 grammi, che voi sapete danno molto spesso un'ipertensione oculare, danno quasi costantemente, diciamo, l'opacità della capsula posteriore, ma vi ho citato questi studi, studi che sono fatti per l'idema diabetico, ma anche per l'idema diabetico refrattario, nell'ultimo studio di Kim e gruppo di Spade, il primo è quello del gruppo di Godrick, quello intermedio è quello della Pollack, quindi studi veramente importanti, che dimostrano che per avere l'effetto retinico desiderato sono, appunto, comparabili l'effetto fra 1, 2 e 4 milligrammi, adoperando queste dosi minime, è minimo, diciamo, è l'effetto ipertensivo e cataratogeno che potete ottenere. Qui vediamo un caso di polipoide, il caso classico di, appunto, neovascularizzazione di AMD refrattaria, vedete qui, appunto, trattata, diciamo, in monoterapia, e vedete, appunto, l'effetto, diciamo, disastroso, praticamente è stata insensibile, soprattutto quando vedete la polipoide, come questo nodulo rosso ranciato, bene evidente il trattamento anti-VEGF in monoterapia è quasi costantemente deludente, bisogna associare sempre il trattamento fotodiamico, oppure, come in questo caso, vedete, appunto, solo la triplice terapia ha potuto portare all'estinzione completa del complesso polipoide che nella intermedia, vedete come è cresciuto a distanza di un anno, solamente con terapia, appunto, anti-VEGF in monoterapia. Ecco, vedete l'OCT prima e dopo. E ora, appunto, arriviamo all'anti-VEGF prossimo venturo. È una molecola cinese, messa appunto dai cinesi, i cinesi copiano tutto e vedete hanno copiato quasi la molecola della flibbercept. Se vedete che hanno preso il dominio 2 del recettore 1, il dominio 3 del recettore 2 e poi hanno preso il dominio 4 del recettore 2. Questa molecola è già stata approvata in Cina, il costo è di 1140 dollari e vedete viene fornita già con iniezioni precaricate, vedete sulla destra. Il caratteristico di questo anti-VEGF, vedete se parliamo di costante di dissociazione che è il reciproco dell'affinità con l'anti-VEGF, è molto simile a quelle della flibbercept. Ed è, questo spiega, una maggiore affinità con il VGF rispetto a Ranibizumab e a Bevacizumab. Nei modelli matematici e addirittura, anche se, attenzione, un conto è la matematica, un conto è la teoria e un conto è la pratica clinica, ha un'affinità, cioè tiene legato il VGF con una potenza 200 volte superiore a quelle del Ranibizumab. Tre sono gli studi che ne hanno consacrato la sicurezza e, diciamo, l'efficacia. Importante quello del studio Fenix e vedete appunto i dati di incremento dell'acuità visiva e la diminuzione, diciamo, del spessore medio. Il vantaggio di questa antivegef è che dopo la loading phase un'inizione classica per tre mesi dopo richiede il trattamento ogni tre mesi e pertanto permette, diciamo, di ridurre i nostri trattamenti. Molto importante è il bridge study che è attualmente in corso e coinvolge 24 centri. Io così ho finito. Vi ringrazio. grazie. 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 Grazie.